Alcuni lo descrivono con questa equazione assurda, bello uguale falso e brutto uguale vero. Ma cos'è il vero Giappone? Capita sempre più spesso di notare come nel vasto, eppure così piccolo e chiuso mondo dei social, quando si parla di Giappone si vadano a creare strutturalmente due unici schieramenti, quello di chi ha ragione e quello degli altri. Chi ha ragione descrive il suo Giappone, che sia il Giappone in cui vive, come anche il Giappone in cui non vive, come il vero Giappone, mentre tutti gli altri siano in qualche modo in errore, nel migliore dei casi, o interessati a vendere un Giappone diverso da quello reale nella maggior parte. Una nuova cospirazione, insomma, la cospirazione di quanto è bello il Giappone. Si è venuta a creare col tempo una serie di immagini del Giappone nella mente di chiunque noi. Fotografie, video, descrizioni, link riguardanti eventi o notizie. Soprattutto sui social, dove le notizie e le informazioni nascono, vengono tradotte e o riportate, o forse purtroppo, sempre più spesso o semplicemente inventate, ognuno tende a pescare l'immagine che più si avvicina a ciò che vorrebbe che fosse, e la si usa per farla divenire. Collezionando e condividendo costantemente un genere lo si tende a mostrare come verità. Il fatto è che la verità non esiste, o meglio, certamente esiste qualcosa di vero, di reale, ma tutto è sempre da leggere, soprattutto comprendere. Ma torniamo a parlare di Giappone. Prendiamo ad esempio a Chiabara, il famosissimo quartiere di Tokyo, quasi esclusivamente dedicato alle più recenti culture pop e giovanili. È pieno di palazzoni ricoperti di manifesti di Pokémon, videogiochi e idol? Sì e no. La via principale di certo lo è. Lo è perché vi si concentrano i negozi che vendono prodotti riguardanti questo mondo, e quindi è normale che come potrebbe avvenire di fronte ad un centro commerciale focalizzato sulla moda, che magari esponno un enorme cartellone di Zara, qui si pubblicizzi l'ultimo manga o videogiochi uscito, che si spera venda miliardi di copie. Ma cosa succede se dalla via principale ci spostiamo in una stradina laterale? Spariscono i cartelloni, troviamo negozietti che vendono cavi e lampadine, qualche kebabaro, sì, ad Achiabaro è pieno zappo di kebabari, e via via verso una scuola, un parchetto, dei condomini, insomma, la fine di un sogno che viene venduto come qualcosa di magico ed incredibile. Ed è magico ed incredibile, ma è un luogo specifico all'interno di un contesto e di una situazione. Insomma, nel suo essere speciale, ed è speciale visto che al mondo rimane ancora oggi unico, è comunque qualcosa di normale, comprensibile e giustificabile. Ad Achiabara nessuno regala sogni o un mondo migliore, semplicemente si vendono prodotti relativi ad un qualcosa, e questo qualcosa qui è relativo ad un mondo fantastico che è amato da milioni di persone, e per questo tale commercio viene molto apprezzato. È quindi un luogo falso? Assolutamente no, Achiabara è Achiabara, semplicemente. Ma per uno degli schieramenti della grande guerra del vero Giappone, Achiabara non è il vero Giappone. Il vero Giappone è Kyoto, con i suoi templi, le tradizioni, le antichità, i kimono e le geishe, dicono altri. Molti di costoro poi rimarranno delusi quando vedranno che nei templi si trovano le antenne paraboliche, perché il monaco buddista mica è scemo e deve vivere distempia, che lui vuol vedere le serie tv. I cavi elettrici, che le case delle geishe si trovano accanto a ristoranti in un quartiere dove girano i taxi, e madre di turisti, ma di questo ne parleremo in uno dei prossimi video sulla delusione. C'è chi vive la propria giornata lavorando, ma comunque è felice e soddisfatto, e a sera si concede un caffè particolare, un bar dallo stile unico o un ristorante affascinante. C'è chi sta studiando e nel tempo libero va in strada, gioco o passeggia per Achiabara. C'è chi visita il tempio, chi si perde tra i tori del santuario shintoista di Fushiminari, c'è chi aspetta la metropolitana, chi litiga col vicino di casa, chi getta il mozzicone di sigaretta in terra, e chi vede un'altra persona gettare il mozzicone di sigaretta in terra. C'è di tutto e ognuno riporta ciò che, per come è fatto e per ciò che vuol comunicare, vede e sente, come qualcosa da mostrare in quel momento. E con i social tutti vediamo tutto di tutti. Ed è vero, non ci sono fotomontaggi. Il vero problema, quindi, non è distinguere il vero dal falso, ma capire che è tutto vero in quel contesto e in quel modo. E solo in quel contesto e modo. Prendiamo l'esempio dei venditori di tour che organizzano i viaggi in Giappone. Cosa gli servirà? Gli servirà guadagnare, visto che è il loro lavoro. Come possono guadagnare? Vendendo viaggi. Come possono fare per vendere viaggi? Facendo una buona pubblicità. E vende di più un buon video pubblicitario, dove mostro quante cose belle ci sono ad Akiabara, o un video dove mostro un impiegato di Shinjuku alle 5 del mattino ubriaco che vomita anche l'anima? Ovviamente la prima. Ma sono entrambe vere, solo che mostrano quello che più gli conviene. Altro esempio, le testate giornalistiche con i loro reporter da Giappone. Cosa gli servirà? Guadagnare, visto che è il loro lavoro. Come possono farlo? Scrivendo articoli interessanti. Come possono fare a rendere interessanti i loro articoli? Scrivendo qualcosa che attira molto l'attenzione. Qualcosa di grosso, di incredibile, di stupefacente. E vende di più un articolo dove descrivo un'ondata di suicidi tra i ragazzini delle scuole medie? O la pigra giornata di un pensionato che gioca a carta in un parco a Nagoya? Ovviamente la prima. Ma sono entrambe notizie vere. Solo che mostro quella che più mi conviene. Ok, potremmo andare avanti in eterno così. L'agenzia di viaggi deve vendere località turistiche fichissime e il giornalista lo scandalo. Lo youtuber deve tenere la gente attaccata al video per cui magari piazza sushi e ragazzi poco vestite. Il blogger scrive di altri che scrivono, dicono cose ed è tutto vero. Solo che è parziale. Ci ritorna in mente una frase dello scrittore Sasori. Se io la mattina mi sveglio felice difficilmente avrò voglia di mettermi a scrivere cose tristi. Una delle cose quindi che abbiamo notato è che chi parla di cose felici è falso. Cioè, se sei felice, se hai una bella vita di cui sei orgoglioso, se vivi giornate interessanti e pieni di bei momenti allora sei falso perché non hai riportato l'omicidio e ferato avvenuto nel posto tal dei tali. Ma ei, ok, anche noi guardiamo il telegiornale. Ma se ieri siamo stati a visitare prima dei templi e poi un museo riguardante la casa di un mercante barra distillatore di Nihonshu e ci andava di parlare di quello non è che siamo dei falsi che vogliono tenere nascosti gli omicidi in Giappone. Semplicemente ieri avevamo queste cose che focalizzavano tutta la nostra attenzione ed emozioni e quindi abbiamo parlato di altro sui nostri social. Funziona così, è la mente umana specie quando non si ha un piano da seguire. Chi invece ha deciso di trattare determinati temi per un qualche fine ricordatevi che ne abbiamo parlato poco fa c'è chi vende viaggi e mostra le cose belle il giornalista, gli scandali mostra questo lato scuro del Giappone allora mostra l'unico inimitabile e inconfutabile vero Giappone quindi bello uguale falso, brutto uguale vero. Non crediamo di aver mai visto un'equazione più assurda di questa eppure sembra sia l'ultima moda in fatto di Giappone sui social ha una brutta notizia e quindi è una vera notizia non funziona così non è realistica un'esistenza di assoluti non è fisicamente possibile su questo pianeta e nella realtà in cui viviamo il Giappone, ma un po' tutto il mondo direi ha i suoi lati positivi e quelli negativi cose belle e cose brutte a posti antichi e nuovi concludiamo quindi rassicurandovi che non esiste il vero Giappone nessuno dice la verità mentre gli altri mentono salvo alcune eccezioni ovviamente ma questo è un discorso a parte e non c'è nessun complotto per mostrare a un Giappone che non è quel Giappone che realmente vedono le persone probabilmente con questo video chi era prima convinto che il vero Giappone sia solo quello brutto pieno di disgrazie, traumi sociali, incurabili continuerà a pensarlo ma semplicemente abbiamo voluto dare la nostra opinione noi crediamo fermamente che l'antica massima di vivi e lasciavivere dovrebbe essere memorizzata e incisa nei pensieri quotidiani sia che si parli di Giappone che di qualsiasi altro argomento grazie a tutti